Nei giorni a cavallo del Natale del 1216, Papa Onorio III diede la definitiva approvazione all'Ordine dei Frati Predicatori, fondato da San Domenico di Guzman, una famiglia religiosa che avrà un ruolo importante nella vita della Chiesa e che arriverà ad abbracciare anche monasteri e congregazioni femminili insieme a fraternite laicali. Numerosi membri della famiglia domenicana si sono riuniti sabato 7 novembre, festa di tutti i Santi dell'Ordine, per iniziare proprio sulla tomba del Santo Fondatore uno speciale anno giubilare, concesso da Papa Francesco e che coinciderà in gran parte con l'Anno Santo della Misericordia. Celebriamo 800 anni della nostra vita, 800 anni di tante luci, di alcune ombre e oggi in modo particolare vogliamo prendere l'occasione per chiedere ancora una volta la Misericordia come chiediamo ogni volta quando entriamo nell'Ordine. È un'occasione appunto per ribadire questa necessità insormontabile della Misericordia e con l'aiuto del Signore vogliamo essere grati di quanto ci ha donato di fare in questi anni e vogliamo essere disponibili ancora al suo disegno di salvezza per tutte le anime. Più volte negli otto secoli di vita dell'Ordine sono stati individuati dei motti degli slogan che sintetizzassero il carisma domenicano. Le parole forti dell'ino domenicano? Beh, molto difficile. Laudare, benedicere, predicare viene più tardi. Veritas viene nel 1800. Contemplare e contemplare all'istradere è di San Tommaso, non di San Domenico. In realtà, Onorio III, quando scrive a San Domenico, ha una bellissima formula evangelizzante sperorben nomen domini nostri Jesucristi. Evangelizzare attraverso il mondo il nome di Gesù Cristo. Non è stata molto usata questa formula, ma penso che sia la più bella, tutto considerato anche la più attuale.